Quale incanto mirarti, oh Maria, su quel trono tra vivi splendori, con il crepo il tuo figlio in amore, dallo sguardo la terra ed il cielo, tu eccelsa sovrana regina, sei la madre più cara amorosa, che invocata ti mostri pietosa alla prece dell'alba fedele. Vergine Santa Gloriosa Maria, sol per te si compiace il Signore, larghi grazie portenti d'amore, ricorriamo fidenti ai tuoi piedi, De proteggi quest'ambia fedele, che ti elessi a sua madre divina, ordineggiatilo da esichina, e si affida al materno tuo cuor, figlia eletta prescelta da Dio, regal donna possente e immortale, che le insidie nell'idra infernale, disperdesti a tua cuore e dono, Vergine Santa Gloriosa Maria, sol per te si compiace il Signore, larghi grazie portenti d'amore, ricorriamo fidenti ai tuoi piedi, Vergine Santa Gloriosa Maria, Vergine Santa Gloriosa Maria, sol per te si compiace il Signore, larghi grazie portenti d'amore, ricorriamo fidenti ai tuoi piedi, Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Cari fratelli e sorelle, davvero con immensa gioia sono con voi questa sera a celebrare la Santa Eucaristia nel ricordo, nella festa del ritrovamento della Sacra Immagine della Madonna dei Miracoli, nel ricordo di quanto questa immagine significa per tutti gli andriesi. Da qualche anno che sono con voi e vedo davvero come il legame con la Madonna dei Miracoli nel cuore di tanti e tanti andriesi è davvero intenso, forte, è quasi una identità. Chi è l'Andriese? La Madonna dei Miracoli. È uno che ama la Madonna dei Miracoli e che porta con sé, sempre, questo legame intenso con la Madre del Signore, venerata con questo titolo. Da secoli la città la ricorda, la venera, la ama e celebra i suoi misteri. Allora ci vogliamo preparare a celebrare bene questa Santa Eucaristia, riconoscendo innanzitutto umilmente i nostri peccati. Confesso a Dio Onipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, e opere, opere e onissime, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e subito la beata sempre Vergine Maria, gli angeli sanno anche voi fratelli e sorelle di pregare per me, Signore, Dio Onipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. E pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti dobbiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorificiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre onipotente, Signore Figlio unigenico Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, ami e vietarmi noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra sopplica. Tu che siedi alla destra del mare, ami pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre, Amore. Gloria, gloria, in eccensis Deo. Gloria, gloria, in eccensis Deo. Preghiamo, o Dio, che nel mirabile disegno del tuo amore, hai voluto che Maria, che veneriamo Regina dei Miracoli, desse alla luce l'autore della grazia, e forse in modo singolare, associata all'opera della redenzione, per la potenza delle sue preghiere, donaci l'abbondanza delle tue grazie e guidaci al porto della salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amore. Senti. Dal libro di Esther In quei giorni, Esther parlò di nuovo al re, cadde ai suoi piedi e lo pregava di rimuovere il malefatto a Daman, tutto quello che aveva fatto contro i giudei. Il re stese lo scettro d'oro verso Esther ed Esther si alzò per stare accanto al re. disse Esther Se piaccio a te e ho trovato grazia, si ordini di revocare le lettere inviate da Amman, quelle che erano state scritte per sterminare i giudei che si trovano nel tuo regno. Come potrei infatti sopportare la vista dei mali del mio popolo e come potrei sopravvivere allo sterminio della mia stirpa? Il re rispose ad Esther Se ti ho dato tutti i beni di Amman e ti ho concesso la mia grazia, se l'ho fatto appendere un palo perché aveva messo le mani sui giudei, che cosa chiedi ancora? Potete scrivere voi a mio nome, come vi sembra, sigillate con il mio anello. Infatti, tutto quello che è stato scritto su comando del re ed è stato sigillato con il mio anello reale non può essere revocato. Per i giudei vi era luce e letizia. In ogni città e provincia dove era stato pubblicato l'editto, dovunque era stato esposto il decreto, vi erano per i giudei gioia ed esultanza, festa e allegria. E molti pagani si fecero circoncidere e, per paura dei giudei, si fecero giudei. Parola di Dio Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodano i popoli tutti. Dio, abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti. Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti. Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra. Ti lodino i popoli tutti, o Dio, ti lodino i popoli tutti. Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra. Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. in piedi. Seduti. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci a essere per Lui figli e adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della Sua volontà, all'ode dello splendore della Sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In Lui, mediante il Suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, secondo la ricchezza della Sua grazia. Egli le ha riversate in abbondanza su di noi, con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della Sua volontà, secondo la benevolenza che in Lui si era preposto per il governo della pienezza dei tempi. ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. in piedi. Lode a te, oh Cristo, regni eterna gloria, Sua madre disse ai servitori, qualsiasi cosa vi dica, fatela. Lode a te, oh Cristo, regni eterna gloria, Lode a te, oh Cristo, regni eterna gloria. Il Signore sia con voi, e coni il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Cristo. In quel tempo, vi fu una festa di noci a Cana di Galilea, e c'era la madre di Gesù, fu invitato alle noci anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse, non hanno vino. e Gesù le rispose, donna, chi vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora. Sua madre disse ai servitori, qualsiasi cosa vi dica, fatela. verano la sei anfore di pietra, per la purificazione rituale dei giudei, contenente ciascuna da ottanta a centoventi litri. e Gesù disse loro, riempiti d'acqua gli anfore, e li riempirono fino all'orlo. Dissi loro di nuovo, ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto, come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua. Chiamò lo sposo e gli disse, tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio e quando si è già vivuto molto quello vino buono, tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora. Questo a casa di Acana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i Suoi discepoli gridettero in Lui. Parola del Signore gloria a te, oh Cristo, gloria a te, oh Cristo, Stiamo vivendo, cari fratelli e sorelle, stiamo vivendo un anno particolare, un tempo particolare. E mai come quest'anno gustiamo con particolare intensità di fede la festa di oggi, che ci fa guardare a Maria con questo bel titolo, la Madonna dei Miracoli. e il racconto del Vangelo che abbiamo ascoltato ci ha ricordato, dico ci ha ricordato perché questo racconto lo conosciamo bene, chissà quante volte lo abbiamo ascoltato, ci ha ricordato il primo segno, il primo miracolo compiuto da Gesù a Cana di Galilea in occasione di una festa di nozze. Si era finito il vino, la festa rischiava di avere un brutto esito, chi capisce la situazione in tutta la sua serietà e gravità è Maria, la mamma di Gesù, la quale si fa interprete del disagio e lo presenta a Gesù con discrezione, senza forzare le cose. Una parola sola, dice a Gesù, non hanno più vino, si è finito il vino. Come per dire, c'è questa situazione, vedi tu che vuoi e che puoi fare. Gesù all'inizio resiste un po', ma poi concede sulla sua parola questo segno prodigioso che ridà gioia alla festa, la rende di nuovo bella, gioiosa. Ora vedete, noi contempliamo Maria con questo titolo, Madonna dei miracoli e oggi abbiamo visto, vediamo, il primo miracolo fatto da Gesù e questo primo miracolo avviene per intercessione di Maria, la mamma. Ci sembra di poter dire che Gesù alla sua mamma non può dire di no e quindi compie questo gesto, pur essendo un gesto ormai troppo lontano dagli eventi della passione. Gesù era appena di inizio, ma ci sono dei significati da cogliere in questo segno. Il vino non è soltanto una bevanda che dà festa a un pranzo. È un segno. Il vino che si è finito è il segno che l'alleanza matrimoniale tra Dio e l'umanità stava andando a male. Il vino si era finito, cioè si era finita la festa. E quante volte le nostre situazioni umane vanno a male. Da festa diventano tragedie. Pensiamo proprio ai tempi che stiamo vivendo a causa del virus, no? Quante sofferenze, quanti dolori, quante amarezze, quante lacrime, quante preoccupazioni in tante famiglie, non solo qui ad Andria, ma in tutto il mondo. E allora, vedete, il Vangelo ci dice che noi ci dobbiamo affidare a Maria. perché lei come ha interpretato il disagio di quella famiglia che vedeva andare a male la sua festa ed è intervenuta, così noi facendoci interprete della situazione di dolore di tante tante nostre famiglie, noi dobbiamo chiedere a lei che intervenga presso suo figlio, che preghi per noi, che chieda il suo intervento e pian piano, pian piano, si possa superare questo tempo così difficile che stiamo vivendo. Eccoci, dobbiamo affidare a Maria, sicuri che Maria farà la sua parte, non ce la negherà, ma credo che Maria deve fare la sua parte non soltanto intervenendo affinché questo virus possa rallentare il suo contagio, ma dobbiamo chiedere a Maria che preghi e che interceda per tanti di noi che fanno fatica ad andare avanti in questo tempo così difficile. Diciamo la verità, ci siamo stancati dell'isolamento, ci siamo stancati della mascherina, ci siamo stancati di tutte quelle regole di prudenza che ci viene inchiesto di osservare. allora anche questo dobbiamo chiedere a Maria, non soltanto il suo intervento prodigioso che freni il contagio, ma dobbiamo chiedere a Maria che ci dia la forza di resistere, di andare avanti osservando tutte le regole per il bene di tutti. Tante volte si vedono persone qua e là, non solo ad Andrea ma un po' dappertutto, che si comportano senza rispetto, non osservano le regole. Invece no, noi dobbiamo chiedere a Maria che vegli sul cuore di tutti e a tutti dia pensieri di rispetto per tutte le regole perché è per il bene di tutti. È inutile fare gli spavaldi, fare le persone che capiscono tutto e che guardano con disprezzo le regole. No! È per il bene di tutti, di tutti e quindi anche nostro. Se ci comportiamo in maniera avvenuta, rispettosa, certamente il tutto andrà meglio. Allora, questo dobbiamo chiedere a Maria, alla Madonna dei miracoli, che faccia questo miracolo, che tocchi il cuore di tutti e tutti ci renda più attenti al bene comune, al bene di tutti. E certamente Maria non si farà pregare inutilmente, interverrà e ci aiuterà a superare questo tempo così difficile. a superare Grazie a tutti. 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 suo fondamento nell'unica mediazione di Cristo, da cui trae la sua efficacia. E il popolo fedele ricorre con fiducia alla Vergine Maria nei rischi e nelle ansie della vita, e incessantemente la invoca, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. E noi, insieme agli Angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, Santo, Santo è il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. O sanna dell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. O sanna dell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. nostro Gesù Cristo. Nella potenza dello Spirito Santo fai vivere santifici l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse, prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse, prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. mistero della fede, tu ci hai vedenti, con la tua cuoce risurrezione, salvazione, 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 Grazie a tutti. Faccia di noi un'offerta perenne, a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi illetti, con la Biata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli e gloriosi martiri, Sant'Agostino e San Riccardo e tutti i santi, nostri intersessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, donne pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Luigi, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amén. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei di te, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, schiaffata la tua volontà, come il cielo e così in terra. Facci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi la rimettiamo ai nostri debitori, che non abbandonassi alla tentazione, ma liberassi dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e, con l'aiuto della tua misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi Apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donna le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un gesto di pace. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, donna a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non solo degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e Dio saluto salvato. Grazie. 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 Il Signore, anima mia, quando in me benedica il suo nome, non dimenticherò tutti i suoi benefici, benedici il Signore, anima mia. Il Signore è buono e pietoso, lento all'ira e grande nell'amor, non conserva in eterno il suo sdempio e la sua ira verso i nostri peccati. Benedici il Signore, anima mia, quando in me benedica il suo nome, non dimenticherò tutti i suoi benefici, benedici il Signore, anima mia. Come dista oriente da occidente, allontana le mie colpe, perché sa che di polvere siamo tutti noi plasmati come l'erba ai nostri giorni. Benedici il Signore, anima mia, quando in me benedica il suo nome, non dimenticherò tutti i suoi benefici, benedici il Signore, anima mia. Benedici il Signore, anima mia, quando in me benedica il suo nome, non dimenticherò tutti i suoi benefici, benedici il Signore, anima mia, quando in me benedica il suo nome, non dimenticherò di sviluppo e di回are. Preghiamo, o Padre che ci hai ristorati alle sorgenti della vita, concedi a noi per la grazia di questo sacramento, con il materno aiuto di Maria, di aderire intimamente a Cristo Mediatore, per cooperare sempre più al mistero della redenzione, per Cristo nostro Signore. Eccellenza, vi permetta di dire che lei è proprio fortunato a avere in diocesi la Madonna dei Miracoli e siamo fortunati anche noi, frati agostiniani, ad avere in Italia un dono così prezioso. In questi quattro giorni che ho potuto stare qui, mi sono reso conto veramente che qui c'è un tesoro. Ci affidiamo a lei sia per vincere l'epidemia e soprattutto per vincere la corruzione morale che sembra non avere fine nella nostra società. La preghiamo per i Vescovi, per il Papa, per i sacerdoti e per tutte le famiglie di Andrea e del mondo intero. La prego, mi ricordi nelle sue preghiere. Io cercherò di fare altrettanto per lei. Grazie della sua presenza e del suo ministero. Grazie a lei, caro Padre, grazie per il ministero della predicazione che ha svolto in questi giorni delle confessioni, la sua presenza con i padri della sua comunità. Chiediamo la benedizione al Signore e naturalmente chiediamo a Maria di intercedere perché questa benedizione porti veramente pace e serenità a tutte le famiglie della nostra città e del mondo intero. Il Signore sia con voi e con il tuo Spirito. Chinate il Capo per la benedizione. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'Autore della vita. A tutti voi che celebrate con fede la solennità della Beata Vergine Maria dei Miracoli, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello Spirito. E la benedizione di Dio Onipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Nel nome del Signore andate in pace. Prendiamo grazie a Dio. Che Maria ci aiuti sempre. Buona festa a tutti. Grazie. Oh Madonna, Santissima e bella, nostra madre, regina e signora, Andrea tutta, te salta e calora col bambino che porti con te. O Madonna dei Miracoli, O Madonna dolce e forte, di ogni male, o Padre e forte, nella vita e nella morte, o Madonna dei Miracoli, o Padre, la dolce e forte, di ogni male, di ogni male, che servoci, nella vita e nell'amore. che vi preghi conmine di Dio Onipotente, o capita, o 신기olo ca Verona di Dio Onipotente, come vi invito aางer ein, tutti i tuoi suure, che v persistendo aando. Grazie.